Un benvenuto a tutti in questo nuovo video su Figma. Oggi andiamo a vedere lo Shape Tool, la quarta icona, che rivela tutte le forme disponibili e poi tutte le opzioni per modificarle e utilizzarle coscientemente nei nostri progetti. Possiamo scegliere tra punto, rettangolo, linea, freccia, ellisse, poligone e stella. Oppure posso selezionare il Place, cioè collocare nel documento un'immagine, non un video purtroppo perché, come abbiamo detto, nella versione gratuita non sono inseribili ed utilizzabili i video. Man mano andremo a capire anche tutto quello che possiamo fare nel pannello sulla destra per le nostre forme perché sono veramente tante opzioni. Cominciamo con il rettangolo. Posso selezionarlo direttamente da questo pannello oppure schiacciare R sulla tastiera. In ogni caso avrò questo puntatore a croce e nel momento in cui clicco e trascino mi crea una forma rettangolare. Mentre per avere un quadrato mi è sufficiente tenere premuto il tasto Shift che fa sì che tutti e quattro i lati siano uguali. Quindi rilascio la presa e ho fatto il mio quadrato. Torniamo però ad un rettangolo perché è una forma più generale. Spostiamoci adesso qui sulla destra. Nella prima linea in alto abbiamo Allineamenti e distribuzione degli elementi. Queste icone che praticamente vanno a determinare l'allineamento del rettangolo all'interno del frame. Se io come vedete vado a cliccare qui lo allineo orizzontalmente all'estremo della tavola o al centro. Mentre se clicco qui me lo allineo verticalmente agli estremi o al centro. Su qualsiasi linea verticale si trovi già il suo centro e la combinazione di questi due lo porterà al centro del frame della tavola naturalmente. Questa icona qui momentaneamente è disabilitata perché dobbiamo avere più elementi. Quindi andiamo a vedere subito. Mi faccio tre copie di questo rettangolo che posso fare selezionando la forma e cliccando Command o Control D. Oppure tenendo premuto Shift e Option o Alt per Windows e trascino a destra. Come vedete mi crea una copia. Quindi volutamente mi vado a distanziare questo rettangolo di un margine maggiore rispetto ai primi due e poi seleziono tutte e tre le forme e vado a cliccare su questa icona che è Try the Up ovvero mettere in ordine sostanzialmente. Per cui mi andrà a giustificare le distanze fra le tre forme rendendole uguali. Come vedete mi compare anche questa icona qui del trattino e se vado a cliccare mi andrà a diminuire o aumentare sempre insieme in modo uguale lo spazio fra le forme. Torniamo indietro con Control o Command Z e disponiamo le forme in un'altra posizione casuale. Se poi clicchiamo qui, Distribute Vertical Space, queste come vedete ci sembrano ancora disalignate perché in realtà quello che è successo è che Figma ha distribuito in modo equo tutto lo spazio verticale che comprende queste tre forme mettendo una forma centrale e altre due ai lati del riquadro. E' uguale accade anche con quest'altra icona con lo spazio orizzontale. Andiamo alla seconda sezione a destra che ci permette di gestire le posizioni, le dimensioni e la rotazione della nostra forma. Naturalmente la posizione è molto più semplice controllarla attraverso le guide quindi nello spazio stesso piuttosto che con i numeri mentre per le dimensioni spesso è più pratico digitarle qui larghezza e altezza. Per la rotazione della forma posso sia digitare qui i gradi precisi sia posizionarmi con il mouse sopra un vertice e come vedete mi compare questa freccia quindi tengo premuto e ruoto oppure ruoto tenendo premuto il tasto Shift della stiera e si ruoterà di 15 gradi ogni volta. Questo strumento qui invece si chiama Corner Radius ovvero il raggio di curvatura degli angoli quindi se clicco e seleziono un valore come per esempio 20 si arrotonderà nei vertici con un arco di raggio 20 in questo caso tutti e quattro gli angoli della nostra forma. Diversamente li portiamo un attimo a 0 e poi possiamo anche andarci a gestire manualmente questo valore cliccando sul vertice e prendendo questo piccolo pallino che appare proprio all'angolo. Mentre con questa icona Independent Corners posso creare differenti arrotondamenti per i quattro angoli digitando i valori che preferisco. Prendiamo adesso un altro rettangolo e clicchiamo quest'altra icona Constraint Proportion e prendiamo il vertice in alto a destra ridimensionando come vedete la forma mantiene le stesse proporzioni che aveva all'inizio. Lo stesso accade se aumento da qui dai valori in numeri. Diversamente se invece vado a deselezionare questa icona e vado ad aumentare le dimensioni dell'immagine come vedete se non premo il tasto Shift non mi vado ad aumentare in modo proporzionale le dimensioni della forma. La sezione successiva, Constraint la vedremo nel prossimo video poi capirete il perché. Andiamo alla sezione Fill cioè riempimento quindi il colore di riempimento della mia forma. Se clicco su questo quadratino grigio mi si apre il Color Picker ovvero il selezionatore chiamato HSV cioè Hue, Saturation e Value quindi tinta, saturazione e valore un noto anche come HSB dove B anziché appunto il Value è la Brightness che viene ricondotto alla brillantezza del colore e quindi al suo valore quindi le due sigle alla fine corrispondono. Mi posso spostare liberamente qui in alto a sinistra troviamo il bianco puro e scendendo lungo questa verticale diminuiamo man mano la luminosità fino ad arrivare al nero puro mentre spostandoci in orizzontale a qualsiasi valore quindi a qualsiasi altezza di luminosità abbiamo l'aumento di saturazione che descrive la quantità di grigio presente nel nostro colore decrescente verso destra e di conseguenza al contrario l'intensità del nostro colore puro sarà crescente verso destra. Invece qui sotto possiamo cambiare proprio la tonalità quindi in parole povere i colori a cui diamo un nome chiave nello spettro visibile giallo, blu, verde, eccetera. Qui poi abbiamo la trasparenza del riempimento da regolare a pecimento e poi il codice EX che identifica i colori con codici specifici secondo un sistema esadecimale quindi a sei cifre ed è possibile fare copia e incolla del codice da altre fonti quindi da internet se serve o possiamo cambiare per avere i valori RGB che indicano l'apporto rispettivamente del rosso, del verde e del blu red, green, blue nel colore finale e sono modificabili se ci serve ottenere un determinato risultato. poi CSS è semplicemente RGB A dove A sta per alfa e questo stesso valore sostanzialmente va da 0 ad un massimo di 1 quindi il 100% e appunto alfa è la trasparenza o il riempimento del colore. le ultime due opzioni HSL quindi Hue, Saturation e Lightness e HSB quindi lo stesso nominato prima sono dei canali di colori che sono molto simili tra loro ma come vedete nei quadri cambiano un po' di cose. La teoria del colore è una questione molto affascinante ma anche abbastanza complessa quindi l'andremo a vedere abbastanza velocemente così da poter poi essere approfondita singolarmente se volete. quindi HSB e HSL sono spesso presentati rispettivamente come un cono il primo e un bicono il secondo. Nel modello HSB la forma del cono rappresenta la gamma di colori dal bianco puro al nero puro con la tonalità che cambia lungo la circonferenza del cono. Il valore di saturazione aumenta dal punto centrale che è bianco verso il bordo esterno del cono con i colori più saturi appunto su questo bordo esterno. Nel modello HSL la forma biconica rappresenta la stessa gamma di colori dal bianco a nero con la tinta che cambia lungo la circonferenza del bicono sempre. Il valore di saturazione aumenta sempre dal punto centrale verso il bordo esterno del bicono e ancora una volta con i colori più saturi quindi sul bordo. Però vediamo come questo modello appiattito in questo riguadro comporti che il bianco qui sia presente lungo tutto l'estremo superiore e il nero lungo tutto quello inferiore mentre in HSB il bianco si trova solamente nel vertice sinistro del quadrato. Questa è una delle principali differenze quindi per ottenere il bianco è necessario prima massimizzare il valore quindi muoversi verso l'alto e poi desaturare il colore quindi muoversi verso sinistra. Al contrario invece è semplicemente necessario spostarsi verso l'alto. Andiamo avanti ora con il contagocce naturalmente possiamo andare a copiare il colore di qualsiasi elemento presente nella nostra schermata e poi qui sopra posso andare a determinare il tipo di riempimento della nostra forma. Solid è il riempimento a tinta unita mentre gradient è un riempimento sfumato che può essere direzionato in modo lineare radiale angolare e a forma di diamante. Ok quindi iniziamo dalla prima che è la linea appunto la più semplice dove ho la sfumatura che praticamente viene orientata attraverso una linea che possa essere risposta come vedete in orizzontale in verticale o diagonale e qua ho due colori quello di partenza e quello di arrivo ma posso andare volendo a inserire altri colori cliccando direttamente qui come vedete mi compare un nuovo spazio colore e magari poi me lo vado a spostare per creare l'effetto che voglio per cancellarli questi nuovi spazi colori usiamo crunch o indietro sulla tastiera dopodiché abbiamo la sfumatura radiale che appunto si proietta attraverso un'ellisse in questo raggio posso decidere appunto l'estensione della sfumatura mentre con questo altro pallino che rappresenta l'altro raggio varia solo la lunghezza dell'ellisse e se clicco e tengo premuto shift diventa un cerchio perfetto dopodiché abbiamo la sfumatura angolare come vedete abbiamo dei valori per andare a gestire la sfumatura con questo vado a determinare l'ampiezza della forma e con questo invece vado a ruotarla e l'ultima e la più particolare è la diamond quindi a forma di diamante e aumento le dimensioni con questo e con quest'altro vado a stringere o allargare il mio diamante e vale sempre lo shift per avere i due bracci uguali quindi alla fine un quadrato abbiamo infine image e video praticamente posso andare a collocare un'immagine all'interno della mia forma quindi come vedete la forma momentaneamente viene così a scacchi ma poi clicchiamo qui su choose image scegli immagine e vado a selezionare una foto presa dalla mia cartella e figma me la va a collocare dentro la mia forma ci viene messa a disposizione una gestione dell'immagine un po' come abbiamo su photoshop quindi posso già andare a modificare i parametri attraverso questo pannellino quindi ho l'esposizione il contrasto la saturazione la temperatura la tinta le luci e le ombre e quindi non serve passare ad un altro software per appunto modificare la mia immagine quindi ora che ho inserito l'immagine andiamo a vedere i diversi modi di andare a riempire la forma appunto con l'immagine abbiamo quattro modi che sono fill, fit, crop e tile fill è quello di default e inserisce l'immagine esattamente all'interno delle dimensioni della forma quindi questa immagine in realtà sarebbe un po' più larga qua c'è una parte che non viene inserita diversamente se faccio fit è mantenuta esattamente l'intera foto ma come vedete i bordi della mia forma rimangono quindi rimane dello spazio per capirlo meglio è più semplice andare a dare uno stroke quindi un bordo perciò possiamo un attimo a vedere già come possiamo creare il contorno clicco su più e mi crea il bordo della mia forma quindi come vedete la differenza rispetto a prima è che fill mi riempie tutto mentre fit mi va a caricare tutta la foto ma chiaramente in questo caso avanza dello spazio perché le dimensioni dell'immagine e del rettangolo non corrispondono il terzo metodo di inserimento è crop che tecnicamente vuol dire ritagliare quindi ho questi punti di ancoraggio con cui posso andare a tagliare la mia forma per renderla esattamente grande come l'immagine spostando anche l'immagine stessa al di sotto infine una funzione molto particolare è tile che significa piastrella o mattonella e va appunto a inquadrare solo una piastrella un pezzetto grande come la nostra forma creata dalle dimensioni originali dell'immagine inserita quindi va a prendere le dimensioni originali e non quelle che appunto rientrano nella nostra forma come succedeva per le altre opzioni anche qui come vedete possiamo inserire due riempimenti per una stessa forma e questo potrebbe essere utile se vogliamo inserire un'immagine png con sfondo trasparente e determinare noi il colore di sfondo o un'altra immagine al di sotto come sfondo come prima e come per molte altre opzioni ancora poi possiamo cliccare su questi quattro quadratini e salvare questo stile di riempimento per utilizzarlo le volte successive anche in nuovi documenti bene io direi che per oggi è tutto abbiamo visto molte cose e ci teniamo i bordi gli effetti le opzioni di esportazione i vincoli e le altre forme per la prossima lezione grazie per aver guardato fino a qua se avete trovato il video interessante lasciate un mi piace e un commento per qualsiasi dubbio o suggerimento iscrivetevi al canale e se vi va di supportarci potete anche abbonarvi per aiutarci a creare sempre nuovi contenuti e noi ci vediamo in un prossimo video